E' doc Game mode adventure Chiocciola A Perché non ce lo mette mai Maggi di Montecchio Maggi non Montecchioso Vediamo Funziona ok Doc siamo bravissimi a fare parkour Doc andiamo piano Se tu non mi butti giù con la tua hitbox Di merda Ah perché ci sono hitbox Doc mi aspetti Me lo voglio gustare Questo qualcuno E' tanto se non è caduto lo stesso Dicevo vuoi tagliare Bravo pirala Tutto di fila signore tutto di fila Non mi ricorderò mai Tutto di fila tutto di fila Tutto di fila Vuoi sentire che rumore fa il cervello Buonasera Senti che bel rumore Senti che bel rumore Che fa quando lo sbatti sul tavolo Chi è che non la sbatti sul tavolo La padella E qui si può intendere In due modi Mettiamo in basso A destra Sinistra Eh non so nemmeno Qual è la destra Qual è la sinistra Doc Hai visto quanto sono speciale Ma se non è un pro gamer Un pro palayer Senti che è bello Ma lei è speciale Mi sa che quando porto a riparare Il sistema audio su computer Ci faccio mettere La eredice Basta La eredice Ui Dai però se non mi dico Allora questo si fa così No Vai 360 Che cazzo ci fai qua te? E dove cazzo vai poi? Leva ti dai le palle Non si sa neanche quello Ce l'hai fatto Ora non ne ha capito Perché non ho messo i chunk Finché la barca va Vai 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 Falla cagare Ma porra Ah No io le scale non le so fare Ti scalo io Ma si Ma non c'è pugni Vabbè ne vado avanti io Ah ma io ho una bellissima mod Che mi fa sentire Il rumore Il sound Del Custom di minecraft Che vuol dire del custom di minecraft? Ehi che c'ho i sound custom di quando corro Che bello I sound Zoom Ora non lagga più Perché sto utilizzando l'applicazione siusta Oh basta Allora Aspetta Quando è che c'è un po' di tempo? Vai Vai Dai che dobbiamo finire sto parkour di merda Vai di qui Opa là Vai Salve doc Ma porca No No Aspetta C'ho l'ingosione Doc Cada giù Doc Vado a salutare Gianfranco Basta Andiamo signori Su Opa là Uno Due Tie Tua nonna In cariola Sdrumata Dalle patate Del nonno Che coltiva Nell'orto Di casa Cod Stavo mandando indietro Per tutto questo tempo Che gioco bello Doc Lei si rende contro Ma non è fattibile Ah invece sì Aia Ma e allora all'inizio sono andato avanti Porco E che poi ho visto te che non ce ne andavi Ho detto Ah ma bisogna andarvi Sì Eh Porco Oh Porco 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 Blox Ah signori A 50 follower Si porta a Breaking Point Col Doc In live Vuoi sentire dire Tante volte A lei piace a Breaking Point Su Roblox Vero Ma in realtà Sì C'è una merda In pratica No Però Eeeh Se vuoi Imparate F4 Va bene Ma porco No Ci cercava una volta A radio Che basta Che davvero per le grigi E' una Slow falling Slow falling Non ci credo Oid Zoid Ma siamo tornati dietro Lì Guarda lei è scemo Ma che ca- Eh Perché siamo qua Doc Ah no è giusto invece Mi sa Dove eravamo lei prima Là Non lo so Ma va bene così No Ma siamo dal punto sbagliato Non me ne interessa Siamo Siamo all'inizio Non siamo all'inizio Questa parte non l'abbiamo ancora fatta Come no Ah si è quello di accio labbero Ok L'abbiamo fatta Antigre Vai Vero Va Va Fan No Grazie Allora devo andare Dritto Qua Non doveva essere Così Voilà Allora Un salto Due salti Tre salti Ma va Fran Doc Sai cosa faccio con le palle del Doc Le brucio Chi è che Non ci dovrebbe essere anche di Ricky 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 mi ha rotto le palle Quindi non lo metto in cal Mi ha chiamato 7-8 volte sul cellulare Gli ho detto Non mi chiamare Lui continuava Adesso si attacca Il ceco point O Doc Secondo me Comunque non ce la facciamo A finirlo Entro 45 Entro 5 Entro alle 10 Solo che riesco a fare questo Anch'io Se vuoi Lo posso fare No no Va bene così Sicuro Non ci riuscirai Dai Ma lo vuoi provare No Perché non ci riuscirai Eh infatti Non ci sei riuscita Doc Ho fix Ho fixuti Cosmetici Non riesco a capire Se E' l'algera Weee Tutto figlio di putt Ciao Oh Dove bisogna andare Stavi andando al contrario Ancora Ma l'abbiamo già fatta Stavate Non l'abbiamo fatta Come l'abbio Se l'abbiamo appena fatta E' niente Vai 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 Torniamo qua Adesso da qua C'è la speed E qua Poi c'è il Salto Sullo slime Il secondo Sullo slime Perfetto Il Saltino qua Il saltino qui C'è quello che va Sopra Infine Questo Perfetto Secondo te Io sono A 10 Ma poi C'è Basta Basta Ti ho mandato a fare Dialetto E fin qui c'era arrivato E va bene Arriva anche più lontano Ma questo salto è Ultra Difficile Vai Qui God Posso uscire a non morire Vabbè Meno male che non c'è il dead scan Sei stupido Stavi andando da Da zio Ubaldo Contro il muro Bello Eh sì sì Signor Frozen Ma lei è tornato Maggi di Monteglio Venga Venga o le mando Maggi a casa Vai avanti Dai che si sta bene qua Dai muoviti No Non cliccherò Non prenda in giro I miei No Era Era un'idea No Non prenda in giro La mia ciurma Oh Cod'è sta roba Vai 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 Sto parlando con Maggi di Montecchio Ah sì lo conosco Giambaudo di Montecchio Vai Ma Doc Cos'ho visto No Aiuto Via 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 Prima che il doc mi prende No 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 doc Lei è scemo Bagga la mappa L'abbiamo sbaggata No Allora era il venditore di Doc No guardi su È la fine Forse Ah Non lo so Beh lei non ci arriverà Ma che abbiamo fatto già A fine La dice What Non lo so Sfida finita A sto punto È la 1 o questa Sì è la 1 Vai Oddio che salto Sì penso sia alla fine Ma chi ha che bingo Sti dai Beh mi sa di sì Alla fine Purtroppo Vabbè Prima o poi faremo la 2 Doc sa che cosa si fa ora GTA Forse poi Prima però Dobbiamo fare una cosa Voglio essere Ah io però Magari dato che anche Cta ha perso L'ha dovuto di rimanerci Appena l'accendi Forse aspetta però Se vuoi fare il GTA Minecraft Prendi un accendino Ah pronto Questo va fatto in 360 In quadra Vai vai Faci il 360 Sì È partito Via 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 Prima che si genera di chunk Alve Va Ha finito Doc Guardi che bell'albero È un albero speciale Fluttua da solo Io sto mangiando Il gelato con i P*** di Montecchio Ah i p*** di Doc ma lei non deve Pestignare